ANSA, Roma, 10-8, il gruppo di articolo 1, MDP ha espresso un giudizio unanime di radicale critica sull'ipotesi, che venga messa la fiducia sulla legge elettorale. Rivolgiamo un estremo appello al presidente Gentiloni, affinché tenga fede all'impegno assunto in aula, ed eviti che questo strappo, che riteniamo addirittura più grave rispetto a quello sull'italicum, non venga compiuto. Se dovessimo andare avanti su questa strada, articolo 1 MDP voterà, all'unanimità, contro la fiducia e la legge elettorale. Lo dice il capogruppo Francesco Laforgia.